C'è l'immagine? C'è l'immagine? C'è l'immagine? C'è l'immagine? C'è l'immagine? Come sarà il giatto? Già che il barato? Ah! Ah! Ok, è chiudito? Doi! Ho nel ragazzo! Poi! Hai! Ha, hai! Il riposo Ho nel ragazzo. Non è il ragazzo. Ha, qua, qua! Non è il ragazzo! Non è il ragazzo. Non è il ragazzo.